ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale io sono Giorgio Conchari e oggi vi presento il mio cavallo amico P Silver nato nel 2012 ha 7 anni ed è un cavallo molto speciale per lui da quando sono salita su di lui ho detto che lui è molto bello ed è molto bravo ha fatto tratto i calò lui è il primo cavallo del mio papà razza puro sangue arabo il pallone ha fatto tanti show tipo quello di Verona che dopo vi faccio vedere e comunque io li voglio tantissimo tantissimo bene è il mio cavallo preferito solo lui è il mio cavallo preferito vediamo la cara di Verona ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso vi mostro una bella galoppata. Grazie a tutti. E mettete un mi piace. Saluti da Giorgia. Ciao.